Ditemi voi se ci capite qualcosa di queste parole di Giuseppe Conte perché io sinceramente ci rinuncio. Noi abbiamo chiarito, noi non abbiamo da chiarire ogni giorno quello che invece non è da noi mai messo in discussione. Noi non abbiamo da chiarire ogni giorno quello che invece non è da noi mai messo in discussione. Io continuo a chiedermi questo, come sia possibile che la politica nazionale oggi esprima questo livello di comunicazione politica? Per anni abbiamo parlato della Prima Repubblica, del fatto che durante la Prima Repubblica i politici utilizzassero parole difficili, parole incomprensibili. Bene, ma pensiamo di essere messi molto meglio oggi. Noi abbiamo chiarito, noi non abbiamo da chiarire ogni giorno quello che invece non è da noi mai messo in discussione. Peraltro questo passaggio io l'ho tratto dal profilo Instagram proprio di Giuseppe Conte e io credo che l'errore sia doppio in questo senso. Cioè non solo una frase dal mio punto di vista totalmente inefficace, ma anche la pubblicazione sul proprio profilo. E tra le due cose forse la peggiore è proprio questa, perché può anche capitare in una dichiarazione di non riuscire a dire le cose in maniera chiara, ma poi pubblicarle non avendo la consapevolezza che non erano chiare, secondo me è ancora più grave. E davvero la mia domanda resta questa, ci meritiamo questo livello di comunicazione politica in Italia?